Attrice di origine veneta, calca fin da giovanissima le scene di Venendo ben presto una delle più apprezzate attrici del teatro goldoniano. Nel 1923 sposa l'attore Carlo Micheluzzi al cui fianco reciterà per tutto il resto della carriera. Lavorerà, sempre con il marito, a fianco di grandissimi attori del teatro veneto come Cesco Baseggio, Elsa Vazzoler, Gianni e Gino Cavalieri, attiva anche in televisione, fu invece scarsamente utilizzata dal cinema dove esordì nel 1941 in Voglio vivere così di Mario Mattoli anche se va ricordata per l'interpretazione di Luisa moglie di Luca, Aldo Silvani, è madre di Pasquale, Guido Celano, è Maria, Adriana Benetti, Nel celebrato quattro passi fra le nuvole di Alessandro Blasetti del 1942. Questo fu l'unico lungometraggio dalla Seaglin senza avere al fianco il marito. Era la madre dell'attore Tonino Micheluzzi.